Verna, l'emergenza Covid vi ha costretto e vi ha aiutato anche in un certo senso a mettere mano all'organizzazione del trasporto pubblico, in particolare in quelle zone dove era più difficoltoso il collegamento, le frazioni. Sì, nelle frazioni già prima del Covid c'erano poche linee con diverse richieste di implementazione. Col Covid e con soprattutto una modifica degli orari di ingresso e uscita di diverse scuole, scuole superiori in modo particolare, siamo passati da quattro orari di ingresso e uscita ad otto e quindi con tempi, ad esempio, di permanenza in città di ragazzi e ragazzini molto importanti. e questo ha generato ovviamente delle necessità tali da dover riorganizzare i trasporti verso questi tanti paesi del nostro comune per far sì che comunque, ad esempio, ragazzini di 11 anni non arrivassero a terra ma alle 7.30 per poi entrare a scuola, alle 9.30. Su questa cosa abbiamo lavorato in queste settimane, abbiamo raccolto le indicazioni paese per paese a questo punto perché ognuno era diverso dall'altro, abbiamo lavorato con i gestori perché poi, diciamolo subito, gli autobus non sono infiniti e nemmeno gli autisti per cercare all'interno delle aziende di razionalizzare, spostare, modificare per avere l'incontro delle nostre esigenze. Adesso l'amministrazione comunale, l'ufficio mobilità in modo particolare, sta valutando speriamo di autorizzarli a giorni in modo tale da poter dare una risposta a tutte queste esigenze che si sono venute a creare dall'inizio dell'anno scolastico fino ad oggi. Adesso poi non vorremmo che con questo nuovo del PCM che dispone di ulteriori novità, in modo particolare con l'apertura delle scuole superiori dalle 9 in poi, oggi alcune sono dalle 8, non vorremmo rimetterci mano ma d'altronde se dobbiamo farlo faremo anche questo cercando di rimettere mano ancora degli orari, cercando di chiedere pazienza alle famiglie soprattutto ma cercheremo di dare una risposta a tutti nel minore tempo possibile.